avevo deciso che l'avventura di abbey grange sarebbe stato l'ultimo espluato il mio amico sherlock holmes che avrei riferito in pubblico decisione però non dovuta a mancanza di materiale dal momento che fra i miei appunti figurano centinaia di casi di cui non ho mai fatto cenno né ad un diminuito interesse da parte dei miei lettori per la straordinaria personalità e metodi singolari di quell'uomo fuori dal comune il vero motivo era la riduttanza di holmes a permettermi di continuare a pubblicare le sue esperienze finché era per così dire in servizio attivo poteva esseri utile che la gente fosse informata dei suoi successi dal momento che aveva definitivamente abbandonato londra per ritirarsi a studiare e ad allevare api nel Sussex Downs la notorietà gli era diventata insopportabile e mi aveva perentoriamente ingiunto di rispettare i suoi desideri solo dopo che gli feci notare come avessi promesso di pubblicare l'avventura della seconda macchia quando fosse stato il momento e come fosse giusto che quella lunga serie di episodi culminasse nel più importante caso internazionale di cui fosse stato mai chiamato interessarsi riusci finalmente a strappargli il consenso di rendere noto al pubblico sia pure con le dovute cautele il resoconto di quell'incidente se in alcuni punti questo mio racconto potrà apparire piuttosto vago i miei lettori comprenderanno senza dubbio che esiste un ottimo motivo per la mia reticenza tutto accadde quindi in un anno anzi in un decennio che eviterò di menzionare la mattina di un martedì d'autunno quando due visitatori di fama europea entrarono fra le mura della nostra umile casa di becker street uno di essi austero con naso aquilino e lo sguardo imperioso altri non era che l'illustre lord mellinger due volte primo ministro di gran bretagna l'altro scuro di carnagione dai tratti ben definiti elegante non ancora di mezza età avvenente di corpo e di mente era l'onorevolissimo trelavne hope segretario per gli affari europei l'astronascente della politica nazionale si sedettero uno accanto all'altro sul nostro divano cosparso di carte e giornali dai loro volti tesi ansiosi era facile comprendere che il motivo per cui erano venuti da noi era della massima importanza le mani sottili e venate d'azzurro del primo ministro erano serrate intorno al pomodavorio del suo ombrello e il suo viso scavato e ascetico guardava cupamente da holmes a me il segretario per l'europa si tormentava nervosamente i baffi giocherellando con i ciondoli della catena dell'orologio quando questa mattina alle 8 ho scoperto il furto signor holmes ne ho immediatamente informato il primo ministro è dietro il suo suggerimento che siamo qui da lei avete informato la polizia no signore rispose il primo ministro col tono rapido e deciso per cui andava famoso non l'abbiamo fatto né possiamo farlo informare la polizia significherebbe prima o poi informare il pubblico ed è quello che vogliamo a tutti i costi evitare perché mai perché il documento in questione è di tale importanza che la sua divulgazione potrebbe facilmente direi anzi probabilmente creare gravissime complicazioni a livello europeo non è esagerato affermare che è una questione di pace o di guerra se non si riesce a recuperarlo nel massimo segreto tanto varrebbe non recuperarlo affatto poiché l'unico scopo cui mirano coloro che l'hanno sottratto è appunto quello di renderne pubblicamente noto il contenuto capisco e adesso signor tre lab nei hope e sarai molto grato se volesse espormi esattamente in quali circostanze è sparito questo documento presto detto signor holmes la lettera perché si tratta di una lettera inviata da una potenza straniera fu ricevuta sei giorni fa era talmente importante che non l'ho mai riposta nella cassaforte che l'ho portata ogni sera con me a casa a white hall terrasse dove la riponevo in una valigia diplomatica chiusa a chiave e lì dentro appunto si trovava ieri sera di questo sono sicuro mentre mi stavo vestendo per la cena apri la valigia e mi accertai che contenesse il documento questa mattina era sparito la valigia era rimasta per tutta la notte accanto allo specchio della mia toilette tanto io che mia moglie abbiamo il sonno leggero siamo entrambi pronti a giurare che nessuno può essere entrato nella stanza durante la notte eppure le ripeto che la lettera è scomparsa a che ora avete cenato alle sette e mezza dopo quanto tempo siete andati a letto mia moglie era andata a teatro io sono rimasto alzato ad aspettarla erano le undici e trenta quando siamo andati in camera dunque per quattro ore la valigia diplomatica è rimasta incustodita nessuno è autorizzato ad entrare in quella stanza tranne la donna di servizio la mattina e il mio valletto la cameriera personale di mia moglie durante il giorno sono entrambi domestici fidatissimi con noi da parecchio tempo inoltre nessuno di loro poteva sapere che nella mia valigia ci fosse qualcosa di più importante che non le solite carte d'ufficio chi sapeva dell'esistenza di quella lettera in casa nessuno ma sicuramente sua moglie lo sapeva no signore non gliene avevo parlato fino a quando non ho visto stamattina che non c'era più il premier fece un cenno d'assenso col capo conosco da molto tempo signore il suo senso del dovere disse e sono convinto che un segreto di tale importanza sarebbe passato avanti a tutti i più stretti legami familiari il segretario per l'europa si inchinò dicendo questo signore lei non fa che rendermi giustizia fino a questa mattina non avevo neanche lontanamente accennato la cosa a mia moglie avrebbe potuto immaginarlo no signor holmes non avrebbe potuto né lei né nessun altro è mai successo prima di smarrire dei documenti no signore chi in inghilterra era a conoscenza di questa lettera tutti i membri del gabinetto ne sono stati informati ieri ma l'impegno di segretezza che ricopre ogni riunione di gabinetto fu rafforzato dal severo monito del primo ministro santo cielo pensare che nell'arco di poche ore sarei stato proprio io a perderla il suo bel viso era sconvolto dalla disperazione e si strappava i capelli per un attimo intravedemmo l'uomo impulsivo passionale estremamente sensibile poi calò di nuovo la maschera aristocratica e con voce controllata riprese oltre ai membri del gabinetto ci sono due forse tre funzionari del ministero che sanno della lettera nessun altro in tutta l'inghilterra signor holmes glielo assicuro ma all'estero credo che all'estero nessuno abbia visto la lettera salvo colui che l'ha scritta sono praticamente certo che non si è servito dai suoi ministri dei consueti canali ufficiali holmes riflette per qualche minuto ora signore sono costretto a chiedere ulteriori particolari su questo documento e sul perché la sua scomparsa potrebbe avere ripercussioni così catastrofiche i due statisti si scambiarono una rapida occhiata e il primo ministro aggrottò le ispide sopraccidia signor holmes si tratta di una busta lunga sottile di colore azzurro chiaro c'è un sigillo di ceraracca rossa con suo impresso un leone acquattato l'indirizzo è scritto con una calligrafia larga decisa e il destinatario siamo proprio signore lo interruppe holmes che per interessanti anzi importanti che siano questi particolari le mie indagini devono andare in fondo alla cosa che diceva la lettera questo è un importantissimo segreto di stato e temo di non potergli lo dire e non ne vedo la necessità se grazie all'abilità che si dice lei possiede può trovare una busta quale le ho descritto col relativo contenuto lei avrà compiuto un'opera meritoria nei confronti del suo paese è meritato qualsiasi ricompensa noi siamo in grado di elargirle holmes si alzò con un sorriso siete due degli uomini più occupati del paese disse e anche io nel mio piccolo ho molti impegni sono davvero dolente di non potervi aiutare in questa circostanza ma ritengo che prolungare questo colloquio sarebbe solo una perdita di tempo il premier balzò in piedi con quello sguardo feroce che aveva fatto tremare più di un gabinetto non sono avvezzo signore cominciò poi controllò la sua ira rimettendosi seduto per un minuto o due restammo tutti in silenzio poi l'anziano statista si strinse nelle spalle dobbiamo accettare le sue condizioni il signor holmes senza dubbio lei ha ragione ed è assurdo da parte nostra chiedere il suo intervento se non le diamo la nostra completa fiducia sono d'accordo con lei confermò il più giovane glielo dirò dunque facendo ciecamente affidamento sul suo onore e su quello del suo collega il dottor watson potrei anche appellarmi al suo patriottismo poiché non saprei immaginare sventura peggiore per il nostro paese che la divulgazione di questa intresciosa faccenda confidarsi assolutamente di noi bene la lettera proviene da un certo potentato straniero e si è risentito per alcuni sviluppi di carattere coloniale del nostro paese è stata scritta sull'impulso del momento e sotto la sua totale responsabilità è stato appurato che i suoi ministri ne sono all'oscuro al tempo stesso la lettera è stilata in termini così inopportuni e alcune frasi hanno un tono così provocatorio che se fosse portata a conoscenza della cittadinanza provocherebbe un'ondata di stegno e non esito ad affermare che entro una settimana l'inghilterra sarebbe coinvolta in un conflitto armato holmes scrisse un nome su un foglietto di carta che porse al premier esattamente proprio lui ed è questa lettera questa lettera che potrebbe voler dire la perdita di miliardi di sterline e di centinaia di migliaia di vite umane che è andata smarrita in maniera così incomprensibile ne ha informato il mittente sì è stato spedito un telegramma cifrato forse quella persona desidera che la lettera venga resa pubblica no abbiamo fondati motivi di ritenere che si stia già rendendo conto di aver agito con poca discrezione e molta avventatezza per lui e per il suo paese sarebbe un colpo ancora più grave che per noi se si risapesse il contenuto della lettera in questo caso chi mai avrebbe interesse a diffonderla perché qualcuno dovrebbe desiderare di rubarla o di pubblicarla qui il signor holmes entriamo nel campo dell'alta politica internazionale ma se lei considera la situazione europea non avrà difficoltà a comprenderne il motivo l'intera europa è un campo di battaglia esistono due schieramenti di potere militare che più o meno si equivalgono la gran bretagna regge il braccio della bilancia se dovesse muovere guerra ad una delle due confederazioni garantirebbe la supremazia dell'altra sia che essa entri in guerra o che rimanga neutrale mi segue perfettamente quindi è interesse dei nemici di questo potentato entrare in possesso di questa lettera e divulgarla così da provocare una rottura fra il suo paese e il nostro proprio così e a chi verrebbe inviato questo documento se cadesse nelle mani del nemico a una qualsiasi delle principali cancellerie europee probabilmente in questo preciso istante sta viaggiando alla sua volta con tutta la celerità possibile il signor holmes chinò la testa sul petto con un profondo gemito il primo ministro gli mise dolcemente una mano sulla spalla non è colpa sua mio caro nessuno può imputarla a lei non ha tralasciato nessuna precauzione ora signor holmes lei è in possesso di tutti i dati cosa ci consiglia di fare holmes scosse il capo con aria dolente e ritiene che a meno che il documento non venga recuperato ci sarà una guerra lo credo molto probabile allora signore si prepari alla guerra una sentenza molto dura signor holmes consideri i fatti è inconcepibile che sia stata sottratta dopo le 11 e 30 di sera dato che a quanto avete detto il signor holmes e sua moglie erano entrambi nella camera da quel momento a quando fu scoperta la sparizione della lettera quindi è stata rubata ieri sera tra le 7 e 30 e le 11 e 30 probabilmente più verso le 7 e 30 dal momento che chiunque l'abbia presa sapeva che era lì e naturalmente voleva impadronirsi nel più presto possibile ora signore se un documento di tale importanza è stato sottratto a quell'ora dove pensa che sia adesso nessuno aveva interesse a trattenerlo è stato rapidamente passato a chi ne aveva bisogno che possibilità abbiamo di intercettarlo o anche di rintracciarlo è fuori dalla nostra portata il primo ministro si alzò dal divano quello che le dice è perfettamente logico signor holmes credo proprio che ormai la faccenda ci sia sfuggita di mano supponiamo per amore di chiacchiera che il documento sia stato sottratto dalla cameriera o dal valletto sono entrambi domestici fidati a quanto lei mi ha detto la sua cameriera è al secondo piano non c'è accesso dall'esterno e da quello interno nessuno poteva salire inosservato allora deve averla presa qualcuno della casa a chi la consegnerebbe il ladro a una delle tante spie o agenti internazionali i cui nomi mi sono discretamente familiari quelli che potrebbero definirsi i più abili nella loro professione sono tre comincerò le mie ricerche andando in giro a scoprire se ognuno di loro è al suo posto se uno di loro manca specialmente se è scomparso durante la scorsa notte avremo un'indicazione cerca la destinazione ultima del documento perché dovrebbe essere scomparso chiese segretario per l'europa molto probabilmente consegnerebbe la lettera a un'ambasciata qui a londra direi di no questi agenti operano indipendentemente e spesso i loro rapporti con le ambasciate sono piuttosto tesi il primo ministro assentì col capo credo abbia ragione signor holmes porterebbe un bottino così prezioso al suo quartier generale con le sue stesse mani credo che il suo piano d'azione sia eccellente fa tanto hop non possiamo accantonare tutti i nostri impegni a causa di questa disgrazia se ci fossero novità durante il giorno ci metteremo in contatto con lei e lei dal canto suo ci terrà naturalmente informati sui risultati delle sue indagini i due statisti si inchinarono e uscirono sali e cupi dalla stanza quando i nostri illustri visitatori se ne furono andati holmes accese in silenzio la pipa e rimase a meditare io avevo aperto il giornale del mattino e stavo leggendo con interesse la cronaca di un sensazionale delitto accaduto a londra la sera prima quando il mio amico con un'esclamazione si alzò di scatto posando la pipa sul caminetto sì disse questo è l'approccio migliore la situazione è gravissima ma non disperata anche adesso se sapessimo con certezza chi di loro l'ha presa forse è possibile che non l'abbia ancora consegnata dopo tutto con quella gente è solo una questione di soldi e ho dalla mia il ministero del tesoro se la lettera in vendita l'acquisterò anche se mi aumenteranno le tasse è verosimile che quel tipo la conservi per esaminare le offerte da questa parte prima di provare con l'altra sono solo tre quelli capaci di tentare un gioco così audace oberstein la routière ed eduardo lucas andrò da ciascuno di loro gli ha di un'occhiata al giornale del mattino sta parlando di eduardo lucas di godolphin street sì allora è inutile che ci vada perché è stato assassinato a casa sua ieri notte nel corso delle sue avventure il mio amico mi aveva tante volte lasciato a bocca aperta ed esultai al vedere che per una volta la situazione si era capovolta mi guardò sbalordito poi mi strappò di mano il giornale il paragrafo che stavo leggendo quando lui si era alzato era il seguente assassino a west mister un misterioso delitto è stato commesso la notte scorsa al numero 16 di odolphin street una di quelle strade antiche appartate fiancheggiate da dimore settecentesche che si trovano fra il fiume e la bazia quasi ai piedi della grande torre del parlamento in una di queste piccole ma eleganti case abitava da qualche anno il signor eduardo lucas molto noto negli ambienti sociali per la sua affascinante personalità e per la sua ben meritata reputazione di essere uno dei migliori tenori non professionisti del paese il signor lucas è scapolo a 34 anni e la sua servitù si compone della signora pringle un'anziana governante e di milton il suo valletto la governante si colica presto e la sua stanza è all'ultimo piano il valletto aveva la serata libera ed era andato a trovare un amico ad amersmith dalle dieci in poi il signor lucas era solo in casa non si sa ancora cosa sia successo durante quelle ore ma a mezzanotte meno un quarto il vigile barrett passando lungo godolphin street notò che la porta del numero 16 era socchiusa bussò ma nessuno rispose scorgendo una luce nella stanza sul davanti entrò nell'androne e bussò di nuovo anche questa volta nessuno rispose spinse allora la porta ed entrò la stanza era nel caos i mobili spinti da una parte e una sedia rovesciata al centro accanto alla sedia con la mano ancora stretta intorno a una delle gambe giaceva lo sfortunato inquilino era stato pugnalato al cuore e la morte deve essere stata istantanea l'arma con cui era stato commesso il crimine è un pugnale indiano ricurvo che era stato preso da una panoplia di armi orientali che ornava una delle pareti sembra che il movente del delitto non sia stato il furto perché non era stato fatto alcun tentativo di trafugare gli oggetti di valore contenuti nella stanza il signor eduardo lucas era una figura tanto nota e popolare e la sua fine violenta e misteriosa susciterà un profondo dolore e partecipazione tra i suoi numerosi amici bene watson che ne pensa chiese holmes dopo una lunga pausa una coincidenza davvero strana coincidenza qui abbiamo uno dei tre uomini che abbiamo indicato come possibile attore in questo dramma e muore di morte violenta proprio allora in cui noi sappiamo che il dramma si è svolto le possibilità che si tratti di una coincidenza sono una contro un miliardo di miliardi no caro watson i due eventi sono collegati devono essere collegati sta a noi scoprire il collegamento ma adesso la polizia saprà tutto non tutto sanno quello che vedono a godolphin street non sanno e non sapranno niente di white hall terrasse solo noi sappiamo delle due cose e possiamo scoprire quale nesso ci sia fra di loro in ogni caso c'è un fattore ovvio che avrebbe indirizzato i miei sospetti su lucasce godolphin street westminster è a pochi minuti di cammino da white hall terrasse gli altri agenti segreti che ho nominato vivono ai margini del west end era dunque più facile per lucasce che non per gli altri stabilire un contatto o ricevere un messaggio da qualcuno della casa del segretario per l'europa una piccolezza ma quando gli eventi si svolgono entro un limitato arco di tempo può dimostrarsi essenziale e adesso cos'è questo era entrata la signora hudson portandoci sul vassoio il biglietto da visita di una signora hons gli diede un'occhiata inarco le sopracciglia e me lo porse chieda a lady hilda tra l'avno e hope se vuole avere la cortesia di salire disse un attimo dopo il nostro modesto appartamento già così onorato al mattino fu onorato ancora di più per l'ingresso della donna più graziosa di londra avevo spesso sentito parlare della bellezza della figlia minore del duca di belminster ma nessuna descrizione e nessuna sviadita fotografia mi aveva preparato a un fascino così sottile e delicato ai colori stupendi di quel volto squisito eppure vedendolo quel mattino d'autunno non era tanto la bellezza che colpiva il viso era grazioso ma pallido per l'emozione gli occhi lucenti ma di una lucentezza febbrile le labbra sensibili tese e indurite in uno sforzo di autocontrollo il terrore non la bellezza era la prima cosa che saltava agli occhi mentre la nostra bella visitatrice si stagliò per un attimo nel vano della porta mio marito è stato qui signor holmes si signora è stato qui signor holmes la scongiuro di non parlargli della mia visita holmes con un freddo inchino fece cegno alla signora di accomodarsi vostra signoria mi mette in una posizione molto delicata la prego di accomodarsi e di dirmi cosa desidera ma temo di non poterle fare una promessa incondizionata attraversò la stanza sedendoci di spalle alla finestra era una presenza regale alta elegante piena di femminilità signor holmes disse chiudendo e aprendo le mani guantate di bianco le parlerò francamente sperando che lei voglia fare altrettanto con me la confidenza fra me e mio marito è totale tranne che per una cosa la politica su quell'argomento le sue labbra sono sigillate non mi dice nulla ora so che ieri sera a casa nostra si è verificato un deplorevole incidente so che è scomparso un documento dal momento che si tratta di una questione politica mio marito non vuole parlarmene ora è indispensabile ripeto indispensabile che io possa capire fino in fondo di che si tratta lei è l'unica persona a parte i politici a conoscenza di come stiano realmente le cose la prego quindi signor holmes mi dica esattamente cosa è accaduto e quali saranno le conseguenze mi dica tutto signor holmes non tenga il segreto per riguardo agli interessi del suo cliente perché le assicuro che al suo interesse se solo se ne rendesse conto sarebbe più utile che io sapessi tutto che genere di documento è stato rubato signora quello che lei mi chiede è veramente impossibile la donna con un gemito si nascote il viso fra le mani lei dovrebbe rendersene conto signora se suo marito ritiene di doverla tenere all'oscuro di questa faccenda pensa che io al quale egli ha confidato la verità sotto il sigillo del segreto professionale potrei rivelarle ciò che lui ha tenuto nascosto non è leale chiedermelo deve chiederlo al suo marito l'ho fatto sono venuta da lei come ultima speranza ma anche senza entrare in particolare signor holmes lei potrebbe rendere un grande servizio dicendomi almeno un'altra cosa quale signora la carriera di mio marito potrebbe venire compromessa da questo incidente bene signora a meno che non vi si possa porre rimedio potrebbe certamente provocare effetti molto spiacevoli ah ispirò rapidamente come una persona sollevata dal dubbio un'altra domanda signor holmes da una frase pronunciata da mio marito nel primo momento di sbigottimento ho capito che la perdita di questo documento potrebbe avere gravissime ripercussioni pubbliche se lui ha detto questo non posso certo negarlo ripercussioni di che tipo dispiace signora ma lei mi sta chiedendo più di quanto io possa dirle allora non le ruberò altro tempo non posso darle torto signor holmes per aver rifiutato di parlarmi più francamente e sono certa che da parte sua non giudicherà male il mio desiderio di condividere le ansie di mio marito sia pure contro la sua volontà la prego ancora di non far parola della mia visita sulla soglia si fermò a guardarci ed ebbe un'ultima visione di quel bel volto ansioso gli occhi spaventati la bocca tesa poi uscì dunque watson il bel sesso è più campo suo che mio disse con un sorriso holmes quando il raffinato fruscio della veste scomparve col tonfo della porta che si richiudeva a che gioco giocava la signora qual era il vero scopo della sua visita mi sembra che lo abbia detto molto chiaramente e la sua ansia era autentica pensi un momento al suo comportamento watson i suoi modi la citazione repressa l'irrequietezza l'insistenza delle sue domande rammenti che viene da una classe di persone non avvezza a dimostrare apertamente i propri sentimenti non c'è dubbio che fosse molto turbata e rammenti anche la strana enfasi con cui ci ha assicurato che era meglio per suo marito se lei fosse stata informata di tutto che intendeva dire e deve anche aver notato watson il modo in cui ha manovrato per sedersi con la luce alle spalle non voleva che leggessimo sul suo viso è vero ha scelto l'unica sedia della stanza le donne inoltre agiscono per motivi imperscrutabili ricorda la donna di margot che mi fece insospettire per lo stesso motivo non si era incipriata il naso e quella si dimostrò la giusta soluzione come si può costruire su queste sabbie mobili il loro gesto più banale può significare volumi e la loro condotta più straordinaria può dipendere da una forcina o un ferro da ricci arrivederci watson esce sì trascorrerò la mattinata con i nostri amici poliziotti a godolphin street la chiave del problema è eduardo lukash anche se confesso di non avere per ora la minima idea di che chiave si tratti è un grosso errore formulare ipotesi prima di conoscere i fatti e rimanga di guardia caro watson e riceva eventuali altri visitatori se mi sarà possibile tornerò per l'ora di pranzo per tutto quel giorno il giorno dopo e il giorno dopo ancora hons rimase di un umore che i suoi amici definirebbero taciturno ma che gli altri definirebbero scontroso usciva ed entrava fumava una sigaretta dietro l'altra suonava qualche passaggio sul violino si abbandonava a sogni ad occhi aperti divorava tramezzini nelle ore più impossibili e non rispondeva nemmeno alle mie occasionali domande evidentemente la cosa non procedeva come avrebbe voluto non disse una parola sulla faccenda di cui si stava occupando e solo dai giornali venne a conoscere i particolari dell'inchiesta e l'arresto seguito da un imminente rilascio di john minton il valletto del defunto la giuria del coroner emise lo scontato verdetto di omicidio volontario ma i colpevoli continuarono a rimanere sconosciuti non fu avanzato nessun movente la stanza era piena di oggetti di valore che non erano stati toccati le carte del morto non erano state manomesse furono accuratamente esaminate e dimostrarono che lucas era un attento studioso di politica un inguaribile pettegolo un notevole linguista e un instancabile scrittore di lettere era stato in termini di stretta amicizia con i principali politici di varie nazioni ma fra i documenti che riempivano i suoi cassetti non si era scoperto niente di sensazionale in quanto ai suoi rapporti con le donne sembravano essere stati promiscui ma superficiali aveva molte conoscenze fra il bel sesso ma poche amiche e nessuna particolare fiamma le sue abitudini erano regolari la sua condotta inoffensiva la sua morte era un completo mistero e sembrava destinata a rimanere tale in quanto all'arresto di john minton il valletto era stata una decisione estrema presa come alternativa alla inazione totale ma fu impossibile sostenere un'accusa contro di lui quella sera si trovava a hammersmith in casa di amici un alibi di ferro è vero che era uscito dalla loro casa a un'ora che lo avrebbe dovuto riportare a west mister prima della scoperta del delitto ma la sua asserzione di aver coperto a piedi parte del tragitto sembrava abbastanza probabile visto che era una bellissima serata era arrivato a casa a mezzanotte e sembrava sconvolto dalla inaspettata tragedia era stato sempre in ottimi rapporti col padrone molti oggetti appartenenti al defunto specialmente un piccolo necessaire per la barba furono trovati fra gli effetti personali del valletto ma egli spiegò che erano regali del padrone e la governante lo confermò minton era al servizio di lucas da tre anni era strano che lucas non lo avesse mai portato con sé sul continente a volte si era recato a parigi per tre mesi lasciando però minton a occuparsi della casa di godolphin street in quanto alla governante la sera del delitto non aveva sentito niente il suo padrone riceveva una visita era lei a far entrare l'ospite così per quanto potevo leggere nei giornali dopo tre giorni il mistero era ancora il punto di partenza se olms sapeva qualcosa di più lo teneva per sé ma quando mi disse che l'ispettore l'estrade l'aveva messo a parte del caso compresi che era il corrente di tutti gli sviluppi il quarto giorno la stampa riportò un lungo telegramma proveniente da parigi e sembrava risolvere tutto la polizia parigina scriveva il daily telegraph ha appena fatto una scoperta che solleva il velo sulla tragica sorte del signor eduardo lucas trovato bruscamente ucciso la sera di lunedì scorso a godolphin street westminster i lettori ricorderanno che il defunto fu rinvenuto nella sua camera pugnalato e che i sospetti ricaldero sul valletto il quale però non fu in grado di presentare un alibi inoppugnabile ieri alcuni domestici hanno informato le autorità conosciuta come madame fourney moglie di henry fourney abitante in una villetta di rue austerlitz era impazzita esami clinici hanno accertato che effettivamente la donna soffriva di una forma di mania pericolosa e irreversibile indagini condotte dalla polizia hanno appurato che madame fourney era appena ritornata da un viaggio a londra martedì scorso ed alcuni elementi sembra che la si possa collegare al delitto di westminster da un confronto fotografico si è potuto dimostrare senza ombra di dubbio che madame henry fourney ed eduardo lucas erano la stessa persona e che il defunto per qualche motivo conduceva una doppia vita a londra e a parigi madame fourney di origine creola è una donna estremamente emotiva e in passato ha dato segni di gelosia quasi maniacale si ritiene che durante uno di questi accessi di gelosia abbia commesso il terribile crimine che tanta sensazione ha destato fra la popolazione londinese non è stato ancora possibile ricostruire i suoi movimenti durante quel lunedì sera ma una donna rispondente alla sua descrizione attirò l'attenzione il martedì mattina alla stazione di cheering cross per il suo aspetto sconvolto e il suo violento gesticolare è probabile quindi che ella abbia compiuto il crimine in stato di infermità mentale o che il crimine stesso abbia fatto perdere la ragione alla povera donna al momento non è in condizioni di fornire un resoconto coerente di quelle ore e i sanitari disperano in un suo ritorno alla normalità è stato anche accertato che una donna che avrebbe potuto essere madame fourney è stata vista lunedì sera ferma per qualche ora a osservare la casa di godolphin street che ne dice holmes gli avevo letto l'articolo mentre finiva di far colazione caro watson rispose alzandosi da tavola e mettendosi a passeggiare su e giù per la stanza apprezzo la sua grande pazienza ma se non le ho detto niente negli ultimi tre giorni è perché non c'è niente da dire anche adesso questo rapporto da parigi ci aiuta ben poco direi che è definitivo per quanto riguarda la morte di quell'uomo la morte di quell'uomo non è che un incidente una bazzecola in confronto al nostro compito reale che è quello di rintracciare quel documento e scongiurare una catastrofe europea una sola cosa importante è successa in questi ultimi tre giorni e cioè che non è successo niente quasi ogni ora ricevo comunicati governativi ed è certo che in nessuna nazione d'europa c'è aria di pericolo ora se questa lettera fosse in circolazione no non può essere in circolazione ma se non è in circolazione dove è finita chi ce l'ha perché non viene resa nota questo è l'interrogativo che mi martella nel cervello è stata una coincidenza che lucas fosse ucciso proprio la sera in cui è scomparsa la lettera l'ha mai avuta fra le mani e in caso affermativo come mai non è fra le sue carte se l'è portata via quella pazza di sua moglie e in questo caso è nella sua casa di parigi ma come posso perquisirla senza suscitare i sospetti della polizia francese questo mio caro watson è uno di quei casi in cui la legge è per noi altrettanto pericolosa dei criminali tutto è contro di noi ma la posta in gioco è colossale e riuscissi a concluderla con successo toccherai sicuramente il vertice della mia carriera ecco l'ultimo bollettino dal fronte chiede una rapida occhiata a un messaggio che gli era stato consegnato bene sembra che l'estrade abbia notato qualcosa di interessante prende cappello watson e faremo una passeggiata fino a westminster era la mia prima visita alla scena del delitto una casa alta squallida stretta compassata formale e solida come il secolo che l'aveva vista nascere alla finestra principale scorgemmo la faccia da bulldog di l'estrade che ci accolse con calore dopo che un poliziotto grande e grosso ci aprì la porta e ci fece entrare nella stanza dove era stato commesso il delitto anche se ormai l'ultima traccia che ne restava era una sinistra macchia irregolare sul tappeto un piccolo tappeto grezzo quadrato al centro della stanza circondato da un'ampia zona di antico perché a blocchi quadrati lucidissimo accanto al camino una stupenda collezione di armi una delle quali era stata usata quella tragica notte nel vano della finestra c'era un sontuoso scrittoio e ogni particolare dell'appartamento dai quadri ai tappeti agli addobbi parlava di un gusto talmente lussuoso da sconfinare nell'effeminato ha visto le notizie da parigi chiese l'estrade holmes accennò di sì col capo pare che questa volta i nostri amici francesi abbiano fatto centro senza dubbio è come dicono la donna ha bussato la porta una visita sorpresa immagino perché teneva le sue vite nettamente separate e lui l'ha fatta entrare non poteva lasciarla per la strada e gli ha detto come l'aveva rintracciato muovendogli i suoi rimproveri una cosa ha portato un'altra e poi con quel pugnale così a portata di mano è arrivata la fine non è stato però un gesto istantaneo perché quelle seggiole erano finite tutte laggiù e lui ne aveva una in mano come se avesse cercato di tenerla a bada tutto chiaro come se l'avessimo visto coi nostri occhi holmes inarcole sopracciglia eppure mi ha mandato a chiamare ah sì quella è un'altra faccenda una sciocchezza ma il genere di cose che le interessano bizzarra sa quella che lei definirebbe una stramberia niente a che fare col fatto principale almeno a prima vista di che si tratta beh sa dopo un delitto del genere stiamo molto attenti a lasciare tutto dove si trova non è stato spostato niente un poliziotto di guardia 24 ore su 24 questa mattina sepolto il morto e concluse l'indagine almeno per quanto concerne questa stanza abbiamo pensato di fare un po d'ordine il tappeto vede non è fissato solo steso abbiamo avuto occasione di alzarlo abbiamo trovato sì avete trovato il viso di holmes si era incupito per l'ansia beh scommetto che non immaginerebbe nemmeno in cento anni quello che abbiamo trovato vede quella macchia sul tappeto beh un bel po di sangue deve avere unzuppato il tessuto imbevendolo no senza dubbio e invece sarà sorpreso di sapere che non c'è nessuna macchia nel punto corrispondente al parchè chiaro nessuna macchia ma deve sapevo che avrebbe detto così ma rimane il fatto che di macchie non ce ne sono prese un angolo del tappeto e rovesciandolo ci mostrò che le cose stavano effettivamente così ma il rovescio è macchiato come il dritto deve aver lasciato un segno le streide ridacchiò felice per aver messo in difficoltà il famoso esperto e adesso le spiegherò come mai c'è una seconda macchia ma non corrisponde all'altra guardi lei stesso parlando aveva rovesciato un altro pezzo del tappeto e lì in bella vista c'era una larga macchia rossa sulla piastrella di legno chiaro del pavimento che gliene pare signor holmes molto semplice le due macchie corrispondevano ma il tappeto è stato girato non era fissato quindi non c'era problema la polizia ufficiale non ha bisogno di lei signor holmes per sentirsi dire che il tappeto dove essere stato girato è evidente dato che le due macchie combaciano se le appoggia così ma quello che voglio sapere è chi ha spostato il tappeto e perché dal volto rigido di holmes potevo capire che dentro di sé vibrava di eccitazione senta le strait disse il poliziotto nel corridoio è rimasto di guardia tutto al tempo sì tutto al tempo allora ascolti il mio consiglio lo interroghi a fondo ma non davanti a noi noi l'aspetteremo qui lo conduca nella stanza sul retro sarà più probabile che confessi se sarete soli i domandi come si è permesso di fare entrare delle persone e di lasciarle sole in questa stanza non gli chieda se lo ha fatto parli come se già lo sapesse gli dica che lei sa che qui c'è stato qualcuno lo metta sotto il torchio gli dica che una piena confessione è l'unico modo per farsi perdonare faccia esattamente come le ho detto per giove se è così lo sistemo io esclamò le strait andò di filato in anticamera e un attimo dopo dalla stanza interna lo sentimmo bistrattare il poliziotto adesso watson adesso il do frenetico holmes tutta la sua diabolica forza generalmente mascherata dietro quella sua aria svagata esplose in un parossismo di energia tiro via il tappettino dal pavimento mettendosi i carponi a cercare di scalzare con le unghie i tasselli di legno uno di essi girò su se stesso scoprendo una piccola cavità holmes si infilò ansiosamente la mano tirandola poi fuori con un ringhio di rabbia e disillusione era vuota svelto watson svelto rimattiamo la posto il stello fu ricollocato dov'era e avevamo appena finito di sistemare bene il tappeto quando sentimmo nel corridoio la voce di l'estrade entrando l'ispettore trova holmes languidamente appoggiato al caminetto rassegnato e paziente in atto di soffocare con la mano uno sbadiglio mi spiace di averla fatta attendere signor holmes vedo che l'intera faccenda la annoia mortalmente beh ha confessato e come venga qui mcpherson racconti a questi signori la sua imperdonabile leggerezza il grosso poliziotto rosso in viso e con l'aria mortificata entrò a malincuore nella stanza non intendevo venir meno al mio compito signore glielo assicuro la signorina si è presentata alla porta ieri sera aveva sbagliato casa poi ci siamo messi a parlare chi si sente soli a stare di guardia tutto il giorno bene e poi cosa è successo voleva vedere la scena del delitto l'aveva letto sui giornali mi disse era una signorina molto perbene e mi pensava che non ci fosse niente di male a farle dare un'occhiatina quando vide la macchia sul pavimento svenne rimanendo come morta forse sul retro a prendere dell'acqua ma non riuscivo a farlo rinvenire allora sono andato qui all'angolo all'ivi plant a cercare del brandy e quando sono tornato indietro la signorina si era ripresa e se n'era andata forse si vergognava e non aveva il coraggio di rivedermi e quel tappeto spostato beh signore era un po' increspato certo quando sono tornato ma vede svenendo era caduta proprio su di esso ed è solo appoggiato sul pavimento lucido senza niente che lo tenga fermo l'ho raddrizzato io e questo le serve a direzione agente mcpearson con me non riesci a farla franca disse l'estrade con dignitosa severità senza dubbio lei ha pensato che nessuno si sarebbe accorto della sua infrazione agli ordini eppure mi è bastato dare un'occhiata al tappeto per convincermi che qualcuno era stato fatto entrare nella stanza buon per lei che non manca niente o si sarebbe trovato in brutti guai brutti davvero dispiace di averla fatta venire qui per una simile sciocchezza signor holmes ma pensavo che il particolare della seconda macchia che non corrispondeva alla prima potesse interessarla certo era estremamente interessante mi dica gente quella donna è stata qui una sola volta sì signore una sola chi era non lo so come si chiamasse il signore aveva risposto a un'inserzione con cui si cercava una dattilografa ed era venuta al numero civico sbagliato era una ragazza molto simpatica molto a posto alta bella sì signore era molto alta immagino si potrebbe definire bella forse qualcuno direbbe bellissima oh signor poliziotto mi lasci dare un'occhiatina mi fa con una voce gentile e insinuante e ho pensato che non c'era niente di male se giusto si affacciava alla porta come era vestita molto sobriamente con un lungo mantello che le arrivava ai piedi che ora era si stava appena facendo scuro quando sono tornato col brandy stavano accendendo i lampioni benissimo disse holmes venga watson credo che abbiamo del lavoro importante da sbrigare altrove mentre uscivamo dalla casa con l'avvilito poliziotto che ci aprì la porta le strade era rimasto nella stanza sul davanti holmes si girò sui gradini mostrando qualcosa che teneva in mano il poliziotto guardava attentamente santo cielo signore esclamò sballordito holmes si mise un dito sulle labbra ripose nel taschino del panciotto quello che aveva in mano e scoppiò a ridere mentre ci appiavamo per la strada eccellente disse wenga amico watson sta alzandosi il sipario sull'ultimo atto sarà sollevato nel sapere che non ci sarà una guerra che l'onorevolissimo hope non sarà punito per la sua disavventura che l'indiscreto sovrano non dovrà pagare per la sua indiscrezione che il primo ministro non dovrà affrontare complicazioni a livello europeo e che con un minimo di tatto e di abilità da parte nostra nessuno dovrà rimetterci nemmeno un penny per quello che avrebbe potuto essere un incidente catastrofico non riuscivo a contenere la mia ammirazione per quel buomo straordinario lei ha risolto il caso esclamai non ancora watson rimangono dei punti oscuri ancora da chiarire ma ormai siamo in possesso di tali e tanti elementi che se non riusciremo a trovare gli altri sarà esclusivamente colpa nostra andiamo subito a whitehall terrace per concludere il tutto quando arrivamo alla residenza del segretario per l'europa holmes chiese di lady hilda trelavne hope fummo introdotti nel salottino signor holmes protestò la signora avvampando di indignazione questo è veramente sleale e poco generoso da parte sua come l'ho spiegato desideravo che la mia visita rimanesse un segreto onde evitare che mio marito pensasse che volevo intromettermi nelle sue faccende eppure lei mi compromette venendo qui e dimostrando in tal modo che esiste fra di noi un rapporto d'affari purtroppo signora non avevo alternative sono stato incaricato di rintracciare questo documento importantissimo devo quindi chiederle signora di avere la cortesia di consegnarmelo la donna si alzò di scatto col viso improvvisamente terreo aveva lo sguardo vitreo barcollava temetti che stesse per svenire poi con uno sforzo enorme si vinse e il suo volto non mostrò che il più assoluto sbigottimento lei lei mi sta insultando signor holmes andiamo andiamo signora è inutile mi dia la lettera si precipitò sul campanello il maggiordomo vi accompagnerà alla porta non suoni lady hilda se lo farà tutti i miei sforzi per evitare uno scandalo andranno perduti mi consegni la lettera e tutto andrà a posto se lei collabora con me sistemerò io ogni cosa se mi si mette contro dovrò smascherarla rimase in piedi con altera e sdegnosa una figura reale pissando holmes come se volesse leggerli in fondo all'anima la mano era sul campanello ma non lo aveva suonato lei sta cercando di spaventarmi non è molto virile signor holmes venire qui ad angariare una donna lei dice di sapere qualcosa che cosa esattamente la prego si accomodi signora se cadesse potrebbe farsi male non parlerò finché non si sarà seduta grazie le do cinque minuti signor holmes ne basterà uno solo lady hilda sono al corrente della sua visita eduardo lucas del fatto che lei gli ha consegnato il documento del modo ingegnoso con cui è tornata ieri sera in quella casa e di come ha preso la lettera dal nascondiglio sotto il tappeto lo guardava terra in volto e inghiottì due volte prima di riuscire a parlare lei è pazzo signor holmes è pazzo gridò alla fine il mio amico trasse di tasca un pezzetto di cartone era il viso di una donna ritagliato da una fotografia la portata perché pensavo che avrebbe potuto servire spiegò il poliziotto l'ha riconosciuto ebbe una specie di singhiozzo e il capo le ricadde sulla spalliera della seggiola andiamo lady hilda lei ha la lettera tutto si può ancora aggiustare non ho nessuna intenzione di metterla nei guai una volta restituita la lettera al suo marito il mio compito è finito segue il mio consiglio sia sincera con me è la sua unica chance il coraggio di quella donna era ammirevole anche adesso non voleva ammettere la sconfitta le ripeto signor holmes che lei sta sognando on si alzò mi dispiace per lei lady hilda ho fatto del mio meglio per aiutarla ma vedo che non è servito a niente sono al campanello entrò al maggior domo il signor treravnia hoop è in casa sarà qui all'una meno un quarto signore holmes diede un'occhiata all'orologio ancora un quarto d'ora disse benissimo aspetterò il maggior domo non aveva ancora chiuso la porta che lady hilda gli si gettò davanti in ginocchio con le mani tese e il bel viso inondato di lacrime mi risparmi questo signor holmes me lo risparmi lo scongerò sconvolta e supplichevole per amor del cielo non glielo dica lo amo tanto non vorrei gettare nemmeno un'ombra sulla sua vita e so che questo spezzerebbe il suo nobile cuore holmes la fece rialzare grazie signora per essere rientrata in sé sia pure all'ultimo momento non c'è un istante da perdere dov'è la lettera corse a uno scrittoio lo aprì e ne trasse una lunga busta azzurra eccola signor holmes e volesse iddio che non l'avessi mai vista come facciamo restituirgliela ma la holmes fra sé e sé presto dobbiamo pensare a qualche sistema dov'è la valigia diplomatica è ancora nella sua camera meno male svelta signora la porti qui un momento dopo ricomparve recando una valigetta rossa e piatta come l'ha aperta prima ha un duplicato della chiave ma certo che ce l'ha la apra lady hilda trasse dalla scollatura una minuscola chiave il coperchio della valigia si spalancò traboccava di carte holmes infilò fra di esse la busta azzurra tra un foglio e l'altro il coperchio fu riabbassato la valigia richiusa e riportata nella camera da letto ora può anche arrivare disse holmes abbiamo ancora dieci minuti la sto coprendo più di quanto dovrei lady hilda in cambio lei dovrebbe raccontarmi in questi pochi minuti cosa significa realmente questa storia straordinaria le dirò tutto signor holmes esclamò la signora oh signor holmes mi farei tagliare la mano destra pur di non dargli un attimo di dispiacere non c'è donna a londra che ami il suo marito quanto io amo il mio eppure se sapesse quello che ho fatto quello che sono stata costretta a fare non mi perdonerebbe mai il suo senso dell'onore talmente profondo che mai dimenticherebbe o perdonerebbe un'azione poco onorevole da parte di un'altra persona mi aiuti signor holmes sono la mia la sua felicità le nostre stesse vite ad essere in gioco presto signora il tempo passa si tratta di una mia lettera signor holmes una lettera indiscreta scritta prima di sposarmi una lettera sciocca impulsiva la lettera di una ragazza innamorata non c'era niente di male ma lui l'avrebbe vista come un delitto se l'avesse letta non avrebbe mai più avuto fiducia in me la scrissi tanti anni fa pensavo che fosse una cosa passata e dimenticata e poi un bel giorno questo lucas mi fece sapere che la lettera era in mano sua e che l'avrebbe mostrata a mio marito lo supplicai disse che me l'avrebbe restituita se gli avessi portato un certo documento che era custodito nella valigia diplomatica me lo descrisse aveva qualche informatore nell'ufficio che gliene aveva rivelato l'esistenza mi garantì che nessun danno ne sarebbe derivato per mio marito si metta nei miei panni signor holmes che avrai potuto fare raccontare tutto al suo marito non potevo signor holmes non potevo da una parte mi minacciava la rovina dall'altra per terribile che fosse sottrarre un documento a mio marito era una faccenda politica di cui non afferravo le implicazioni le uniche cose che mi interessavano erano l'amore e la fiducia di mio marito obbedì signor holmes fece un calco della chiave per l'individuo lucas mi consegnò il duplicato aprì la valigia presi il documento e lo recapitai a godolphin street lì cosa accadde signora bussai nel modo convenuto e lucas mi aprì lo seguì nella stanza lasciando la porta socchiusa perché avevo paura a restare sola con lui ricordo che quando entrai fuori c'era una donna la transazione fu presto conclusa la mia lettera era sul tavolo l'idea di documento mi restituì la lettera in quel momento si sentì un rumore alla porta e dei passi nel corridoio lucas alzò rapidamente il tappeto infilò il documento in qualche nascondiglio al di sotto e lo rimise a posto quello che accadde dopo è come un incubo ricordo un viso dalla carnagione scura stravolto una voce di donna che urlava in francese la mia attesa non è stata vana finalmente finalmente vi ho scoperti poi ci fu una colluttazione violenta vidi lui con una sedia in mano lei con un coltello fuggì da quell'orribile scena lontano da quella casa e solo la mattina lessi nei giornali il tragico epilogo quella sera ero felice perché avevo riavuto la mia lettera e non sapevo ancora cosa mi riservava il futuro solo il mattino seguente mi resi conto che non avevo fatto che scambiare un problema con un altro l'angoscia di mio marito quando si accorse della scomparsa del documento mi spezzò il cuore dominai a fatica l'impulso di gettarmi ai suoi piedi e di raccontargli cosa avevo fatto ma avrei dovuto anche raccontargli il perché venne da lei quella mattina per rendermi conto dell'enormità del mio gesto al momento in cui ne presi coscienza il mio solo pensiero fu quello di riprendermi il documento di mio marito doveva trovarsi ancora dove l'aveva messo lukash perché aveva fatto in tempo a nasconderlo prima dell'ingresso di quella donna orribile e non fosse stato per il suo arrivo non avrei mai saputo dove fosse il nascondiglio ma come entrare nella stanza per due giorni tenne d'occhio la casa ma la porta non rimaneva mai aperta ieri sera feci un ultimo tentativo lei già sa quale fu e come riuscì nel mio intento riportai il documento a casa e pensai di distruggerlo perché non riuscivo a vedere come utilizzarlo senza confessare la mia colpa a mio marito mio dio eccolo che sale le scale il segretario per l'europa si precipitò agitatissimo nella stanza novità signor holmes novità esclamò ho buone speranze grazie al cielo si illuminò in volto il primo ministro prenserà con me posso comunicarglielo ha dei nervi d'acciaio ma so che non ha praticamente chiuso occhio da quando è successa questa cosa tremenda jacobs chieda per favore al primo ministro di salire in quanto a te cara temo che questa sia una faccenda politica ti raggiungeremo in sala da pranzo fra pochi minuti il primo ministro appariva tranquillo ma dal bagliore dei suoi occhi e dal modo in cui contraeva le mani ossute capivo che condivideva l'agitazione del giovane collega mi si dice che lei ha qualcosa da riferire signor holmes puramente negativa al momento rispose il mio amico mi sono informato in tutti i luoghi dove potrebbe trovarsi e sono sicuro che non ci saranno complicazioni ma questo non è sufficiente signor holmes non possiamo rimanere sempre seduti in questo vulcano dobbiamo sapere qualcosa di preciso e spero di potervelo dare per questo sono qui più ripenso a questa faccenda più sono convinto che la non è mai uscita da questa casa signor holmes se ne fosse uscita a quest'ora sarebbe di dominio pubblico ma perché qualcuno avrebbe dovuto rubarla per poi tenerla qui non sono sicuro che qualcuno l'abbia rubata e allora com'è potuta sparire dalla valigia diplomatica non sono sicuro che se ne sia sparita signor holmes questo non è il momento di scherzare e assicuro che nella valigia non c'è più da aperta da martedì mattina ad oggi no non ne ho avuto necessità forse non la vista impossibile le dico ma io ne sono sicuro ho visto spesso accadere cose del genere immagino che la valigia contenga anche altri documenti potrebbe essere finita in mezzo a quelli era in cima qualcuno può aver smosso la valigia spostandola no no l'ho vuotata completamente la cosa è presto risolta hope disse il premier vediamo questa valigia il segretario suonò il campanello jacobs porti giù la mia valigia diplomatica è una ridicola perdita di tempo ma se proprio insiste vediamola pure grazie jacobs la posi qui tengo sempre la chiave attaccata alla catena dell'orologio guardi ecco i documenti una lettera di lord merow un rapporto di sir charles hardy un memorandum da belgrado una nota sulle imposte agrarie russo tedesche una lettera da madrid un appunto da lord flowers mio dio e questa cos'è lord bellinger lord bellinger il primo ministro gli strappò di mano la busta azzurra sì è proprio questa ed è intatta mi congratulo con lei grazie grazie che peso mi sono tolto dal cuore ma è inconcepibile è impossibile signor holmes lei è un mago uno stregone come ha fatto a sapere che era qui perché sapevo che non era da nessun'altra parte non riesco a credere ai miei occhi si precipitò alla porta dov'è mia moglie? devo dirle che è tutto sistemato hilda hilda sentimmo la sua voce per le scale il primo ministro guardò holmes con occhi ammiccanti andiamo signore disse le cose non stanno esattamente così come ha fatto la lettera a tornare nella valigia holmes sorridendo evitò lo sguardo scrutatore di quegli occhi tanto espressivi anche noi abbiamo i nostri segreti diplomatici rispose e preso il cappello si avviò alla porta allora Grazie a tutti